Napoli, Osimene infortunato, le sue condizioni. Brutte notizie per il Napoli. Victor Osimene, dal rientro con la nazionale, accusando un fastidio all'addittore sinistro. È stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana. Lo ha fatto sapere il club azzurro nel consueto riporto di Erno. Non sarà felice di questa notizia Spalletti. Il Napoli, infatti, è alle porte del triplo impegno col Milan, è il momento clou della stagione. Osimene salterà la gara di domenica e quella successiva con Lecce, ma recupererà per la Champions. Al suo posto, in campionato, col Milan, giocherà molto probabilmente Simeone. Napoli, la situazione infortunati Osimene si ferma, dunque, proprio quando Spalletti aveva ritrovato Raspadori. L'attaccante si era infortunato a metà febbraio e aveva saltato sette partite. Per la gara col Milan tornerà a disposizione Demme mentre non ci sarà Bereszinski che anche oggi ha svolto lavoro personalizzato in campo. Anche lui, come Osimena, si è fatto male in nazionale. Virgola.